Easy, Easy, EasyZip Apri i file Targizeta online. Vai su EasyZip.com, e vai al convertitore corretto. Clicca Seleziona il file Targizeta per aprire per aprire il selettore dei file. Inizierà l'estrazione del file e verrà elencato il contenuto del file Targizeta una volta completato. Fare clic sul pulsante blu anteprimo per aprire direttamente nel browser. Questa opzione è disponibile solo per alcuni tipi di file. Fai clic sul pulsante verde Salva sui singoli file per salvarli sull'unità locale. Spero che aiuti. Clicca sul logo e iscriviti. Significherebbe molto per noi.